il femmine non fa quello che dico la mamma no voglio un senso che ho facito che ormai noi ci dobbiamo imporre con le nostre moglie no no e io sa cosa c'è fatto la città vicina a me mi dice guarda da oggi in poi io quando vengo da casa tu mi devi togliere le scolette mi devi portare le bandofole e mi ha portato le comando o primi giorni si è ricordato ho già visto qualcosa, il secondo giorno ho già visto tutto come ricevuto e bisogna farsi rispettare pure io ho visto qualcosa, pure io volevo il pranzo pronto il primo giorno ho visto qualcosa, il secondo giorno ho visto qualcosa di più il terzo giorno ho visto tutto e tutto un bel giorno ho detto basta voglio le camicie lavata e stirata è chiaro il primo giorno ho visto qualche cosa, il secondo giorno ho cominciato a vedere qualche altra così oggi è il terzo giorno e finalmente sono cominciato ad avvenire